Natura e Vita con amici in compagnia Oggi vi presentiamo la nuova linea di prodotti per cani e gatti che si chiama Natura e Vita Natura e Vita nasce con la volontà di valorizzare i prodotti per il benessere animale e renderli reperibili nei nostri supermercati tradizionali Per la linea Natura e Vita vi proponiamo la candela profumata naturalizzatori agli estratti di arancia, limone e timo neutralizza gli odori indesiderati degli animali domestici nelle vostre abitazioni Molti prodotti suggeriti dai veterinari o acquistati in farmacia non li possiamo trovare nel nostro supermercato ma con la linea Natura e Vita oggi possiamo acquistarli sul nostro sito o nel vostro negozio di fiducia